Di nuovo in diretta da Luserna San Giovanni, zona del Bersaglio, è partita da poco la gara finale di questa bella giornata di sport, ossia la gara senior maschile di questa quinta riedizione del Cross di Luserna. Abbiamo un'altra ospite qui con noi per raccontare un po' questa giornata, Elisabetta Artuso, consigliera federale di Fidal. Benvenuta ai nostri microfoni. Grazie dell'invito, è un piacere partecipare a questi eventi, un grande evento con più di 400 iscritti, atleti che vengono un po' da tutta Italia, con delle personalità della nazionale, quindi sia nel Cross lungo maschile che in quello femminile abbiamo nomi di spicco come Zorglami, Alfieri, Medolago, che sono dei protagonisti del Cross nazionale. Abbiamo visto tra le donne la Ruffino, che poi è un atleta vostra di casa, comunque è di interesse nazionale, e poi tanti ragazzi e tanti giovani che hanno partecipato alle gare più di giovanili. Ecco sì, quindi che rappresentano un po' il futuro del movimento e allora lei che ha una visione abbastanza generale di questo movimento dell'atletica italiana, possiamo fare una considerazione sullo stato di salute? Abbiamo vissuto un anno d'oro con le Olimpiadi del 2021, sull'onda di questo entusiasmo ci sono state delle ripercussioni positive sul movimento? Sì, ci sono state delle ripercussioni dal 2021, da Tokyo la nazionale italiana, la FIDAL e i ragazzi hanno vissuto un periodo bellissimo perché tanti risultati in tutte le manifestazioni europee, mondiali, sono venute fuori atleti nuovi di spicco che partivano poi dalle categorie giovanili, quindi che sono cresciuti negli anni. E diciamo che il panorama dei ragazzi, dei giovani è molto interessante perché ci sono tanti tanti atleti veramente di interesse e quindi bisogna dargli il tempo di crescere e ci faranno vedere delle belle cose in futuro. Ecco, spesso appunto ha seguito delle vittorie in tutte le discipline e motivo poi di interesse che porta anche i giovani ad approcciarsi magari a questa disciplina. Da questo punto di vista i numeri anche delle iscrizioni ai livelli più bassi, diciamo, dalla partenza c'è stato un incremento di iscrizioni, il movimento si è, diciamo, anche quantitativamente ingrandito? È cresciuto molto il numero degli iscritti, degli affilati, anche, diciamo, grazie purtroppo al periodo che abbiamo attraversato del Covid che ha portato tanti ragazzi a iniziare a praticare atletica leggera. E quindi, niente, oltre che per i risultati, anche per questo problema che abbiamo avuto in Italia, che ancora purtroppo non è superato, ma insomma lo stiamo gestendo. Ecco, un'altra domanda che riguarda categorie maschili e femminili. Nel introdurre questa edizione del Cross, l'organizzatore Renato Agli ci diceva abbiamo un grande parterre di atleti maschili, siamo un po' più deboli sul femminile. Su questo punto c'è qualcosa che si muove oppure ecco è una situazione un po' cristallizzata? Allora, abbiamo diverse esponenti nel panorama nazionale a livello femminile che, vabbè, Gaia Sabatini, io parlo del mezzofondo perché questa è una gara di mezzofondo, il Cross, io pure vengo dal mezzofondo, quindi in senso Gaia Sabatini, Elena Bellò, la Eloisa Coiro, che sono tutte mezzofondiste veloci e poi abbiamo Nadia Battocletti, diverse ragazze veramente forti che fanno anche differenza a livello internazionale. Però dietro c'è un bel movimento anche a livello femminile per quanto riguarda i giovani. Il problema in queste gare è anche la periodizzazione della gara perché sono cominciate le gare indoor e molte di queste ragazze che sono comunque nel mezzofondo veloce preferiscono fare la gara indoor piuttosto che il Cross in questo periodo dell'anno perché gli europei di Cross sono già stati fatti a dicembre, quindi molti, non avendo poi delle aspettative in questi mesi di gare su questa specialità che è la corsa campestre, preferiscono fare altre scelte. Comunque prepararsi e dedicarsi all'attività all'aperto che sarà tra un paio di mesi. Ecco, lei è consigliera federale, ha un passato naturalmente d'atleta. Possiamo spiegare a chi non conosce troppo approfonditamente questa disciplina quali sono le differenze principali nella gestione di una gara su un terreno appunto da Cross invece che su pista o piuttosto che indoor o su strada? Cambia tantissimo, nel senso che comunque questa è la base poi per andare anche forte su pista e su indoor sia all'aperto che al chiuso, però è un bel punto di partenza sia per i mezzofondisti veloci che per i mezzofondisti prolungati, soprattutto per i mezzofondisti prolungati che poi andranno a fare quelle gare come 5.000 e 10.000. Il Cross va interpretato perché ci sono molte varianti, possono esserci durante ogni evento che può essere a livello climatico, il fango, più o meno fango. Abbiamo visto gli europei di Cross, i nostri sono tra virgolette sprofondati nel fango di Bruxelles perché non erano abituati a trovarsi in eventi bagnati in quel modo perché in Italia purtroppo nei primi mesi dell'anno non ha piovuto quindi è una questione anche di adattabilità e adattamento alla situazione come si presenta. E questo l'ha dimostrato forse anche la gara femminile dove l'atleta keniana era partita molto forte e poi l'esperienza forse anche della Ruffino ha avuto la meglio. È una specialista del Cross, lo fa spesso e volentieri. La ragazza keniana, ho avuto modo di parlarci perché l'ho accompagnata io qua perché stava in albergo e mi ha spiegato che predilige le gare su strada ha iniziato da poco, quindi il Cross è una delle prime esperienze quindi avrà tempo di rifarsi. Benissimo, noi ringraziamo Elisabetta Artuso che sarà sicuramente impegnata a seguire la fine di questa bella giornata di sport poi che si concluderà con le premiazioni e una grande in bocca al lupo soprattutto per il suo lavoro nella federazione E incrociamo le dita per Parigi E incrociamo le dita per Parigi, naturalmente E tutto il resto, tanti eventi in tutto l'anno Grazie, noi andiamo in musica e poi torneremo tra pochissimo con il racconto dei protagonisti partendo proprio dalla vincitrice del Cross femminile Valeria Ruffino, a tra poco!